Non usare mai queste due parole influiscono sul tuo karma. Allora, bisogna tenere presente alcune cose fondamentali. Karma significa azione, però non soltanto azione fisica. Karma significa azione di corpo, di parola e di mente. Quindi, attraverso le nostre parole, le parole che diciamo, talvolta anche inconsapevolmente, noi andiamo a condizionare sia i nostri pensieri sia le nostre azioni e quindi influiamo negativamente sul karma. Negativamente o positivamente? Il karma è una sorta di legge, tra virgolette, universale in cui se noi facciamo delle cose, queste cose in qualche modo ritorneranno. Un karma, per essere completo, ha bisogno di un'intenzione, un'azione di corpo, di parola e di mente e un effettuare, diciamo, poi un'azione appunto e un risultato, e gioire del risultato ottenuto. Ma questo è in generale il karma. Però noi possiamo predisporci anche a vivere delle situazioni negative, situazioni che vanno ad amplificare i nostri veleni mentali. I veleni mentali non sono soltanto le cose negative che facciamo verso gli altri, ma anche le cose negative che facciamo verso noi stessi. E questo è qualcosa che viene spesso trascurato. Cioè, noi, è evidente, almeno per chi, per i cultori, tra virgolette, dell'esoterismo o comunque della spiritualità, quasi tutti sanno che se fai un'azione negativa nei confronti degli altri, tenderai a sviluppare un karma negativo verso gli altri. Pochi sanno che il karma è azione, quindi anche verso se stessi. Per dirvi in altri termini, il suicidio, cioè o i gesti autolesionistici, genera un karma molto negativo. Ovviamente il suicidio non lo ripresenterà, non, come dire, non sperimenterai gli effetti di questo karma negativo in questa vita, perché necessariamente metti termine, ma lo sperimenterai in un'altra. Atti autolesionistici li sperimenterai già direttamente in questa vita, travolta nell'atto stesso, appunto, che ti darà dei risultati poi negativi, ma pochi sanno che anche attraverso la parola tu puoi autogenerarti delle situazioni estremamente negative. La parola può generare dei fatti, delle situazioni estremamente negative. Quindi ci sono delle parole che andrebbero bandite perché producono effetti carmici negativi. Sono tutta quella serie di parole espresse, di giudizi negativi espressi da se stessi verso se stessi, che si, diciamo, possono verificare, possono manifestarsi in due categorie principali. Quella di credere e di quindi manifestare parole, di non riuscire ad abbattere gli ostacoli. Quindi non si prendono neanche decisioni, perché si rinuncia per paura di non superare degli ostacoli, per paura di non superare degli antagonisti. E l'altra categoria di parole, che poi adesso andiamo a vedere, è quella invece in cui si pensa di essere, come dire, usciti difettosi dalla fabbrica e quindi si pensa di essere incapaci di, proprio per difetto proprio, di conquistare. Quindi non sono in grado di superare gli ostacoli nel primo caso e nel secondo caso. Io stesso sono l'ostacolo, perché io stesso sono difettoso. Nel primo caso non riesco a spreare gli ostacoli, perché non decido, rifiuto. Quindi penso che l'ostacolo sia troppo grande, troppo forte. Nel secondo caso invece io sono direttamente difettoso, quindi non c'è verso. Sono nato sotto una cattiva stella, sono nato sbagliato, sono uscito difettoso dalla fabbrica. Ecco, quindi queste sono le due tipologie, potremmo definire, di frasi, che vanno a crearci un karma negativo. Perché ci squalificheranno e quindi andremo a sperimentare, perché poi il karma come lo viviamo? Lo viviamo attraverso le sensazioni che andiamo a provare. Andremo a provare delle sensazioni estremamente negative, delle sensazioni estremamente nefaste, delle sensazioni che ci faranno di fatto stare male, ci faranno di fatto vivere situazioni molto molto negative, molto nefaste, che ci impediranno di essere felici fondamentalmente. Quali sono questi tipi di frasi? Beh, la prima famiglia rappresenta, è rappresentata dal fatto che è molto difficile oppure è impossibile che io superi questa cosa. Non ce la faccio. Meglio rinunciare. È troppo complicato per me. Ecco, sono tutto un genere di frasi che vanno nella direzione di vedere gli ostacoli insormontabili. Non ci provo neanche. Rinuncio. E nell'altro caso, invece, mi autoprescrivo delle, diciamo, faccio delle autoattribuzioni negative. Sono sfortunato. Che puoi fare contro la sfortuna? Sono sfigato. Sono incapace. Non riesco. Non sono in grado. Ecco, quindi, questo poi è un mix delle due, no? Perché non riesco, non sono in grado. In realtà, appunto, c'è questa anche interferenza tra le due. Sono sfortunato e quindi non sono in grado. Ora, tutto questo genere di parole che pongono dei limiti rappresentano a livello karmico un'energia negativa, rappresentano a livello karmico una difficoltà. Ecco, quindi, questo per quanto riguarda, diciamo, questa situazione, dobbiamo tenere presente che è estremamente negativo, quindi, impostare la situazione da questo punto di vista, dovremmo imparare a superare, a superare completamente, totalmente queste situazioni, questi fatti e riuscire a a guardare all'op, riuscire a ad avere, a mettere l'antidoto. L'antidoto quali sono? E sono dei messaggi d'amore verso se stessi. Se vuoi sperimentare l'amore, devi iniziare a mettere dei messaggi d'amore per te stessa, per te stesso. devi sentire che ti meriti l'amore, ti meriti di essere amata, ti meriti di amare. È importante questo perché prendersi cura amorevolmente di se stessi contribuisce a sviluppare un karma positivo, contribuisce a sviluppare delle emozioni positive che poi andremo a sperimentare e ci faranno stare bene, ci faranno vivere una situazione estremamente positiva nella nostra vita. Ecco, questo è quello che va imparato, che dobbiamo imparare a fare, che dobbiamo imparare a verificare e tutto questo ci porta a dei grandi risultati a livello karmico e quindi a livello di sensazioni che andremo a sperimentare. Bene, per questo video è tutto, se ti è piaciuto metti un like, condividi con i tuoi amici, iscriviti al canale, attivando la campanella così riceverai le notifiche dei nuovi video. Se vuoi fare una piccola donazione al canale, vai sotto, col vicino e fare una piccola donazione al canale. Grazie.